Ben trovati, un aggiornamento con il TGD3B. Oggi la cronaca ci porta negli Stati Uniti d'America, in particolar modo nella Tornado Alley, stati centrali dell'America, perché qui si sono abbattuti dei violenti tornado che hanno spazzato via alcune cittadine, proprio nel vero senso della parola. Tantissimi danni, ci sono stati anche diversi feriti e purtroppo si contano anche delle vittime, delle immagini drammatiche che ci arrivano in particolar modo dalla cittadina di Greenfield, delle immagini veramente pazzesche con la furia di questi tornado che si sono abbattuti, come dicevamo, sulla parte meridionale della Tornado Alley, quindi in particolar modo sulla zona del Missouri. Andiamo a vedere invece quello che succede in Italia con un vortice di bassa pressione, ancora posizionato tra isole britanniche e Francia, colmo di aria fresca che nelle prossime ore e nei prossimi giorni continuerà a lambire l'Italia cento settentrionale con dei temporali. Per invece le regioni del sud, maggiore stabilità e sole. Andiamo al dettaglio, ed ecco la giornata di giovedì con altri temporali sin dalla mattinata al nord-ovest e poi durante il pomeriggio anche nord-est e parte delle regioni centrali, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Bello al sud con clima mite. Uno sguardo alle temperature, di fatti a sud toccheremo quasi 30 gradi, mentre al nord a fatica toccheremo invece 22-23 gradi, specie nelle zone temporalesche. Uno sguardo rapidamente al weekend che vedrà ancora questo flusso di correnti umide nord-occidentali sull'Italia e quindi siamo a rischio temporali non solo su parte del nord, ma questa volta con maggiore probabilità anche al centro-sud. Maggiori dettagli approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo sugli articoli del nostro sito web.